Musica Bene ritrovati, si rinnova l'appuntamento con l'informazione, la cronaca in apertura, 5 arresti nel barese per estorsione aggravata e spaccio di droga. Gli indagati avrebbero aggredito anche i familiari della presunta vittima. Sentiamo. Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Modugno con l'accusa di estorsione aggravata con violazione di domicilio ai danni di un 31enne residente a Grumo Appula e per spaccio di sostanze stupefacenti. Alla base delle violenze ci sarebbe infatti una partita di droga non pagata dalla presunta vittima. I cinque indagati, tre uomini e due donne residenti a Grumo Appula, Mola di Bari e Bari avrebbero minacciato il 31enne e in diverse occasioni anche i suoi familiari arrivando anche a picchiarlo. I fatti risalgono a luglio scorso quando, si apprende dagli inquirenti, l'uomo sarebbe stato aggredito per l'ennesima volta per non aver saldato alcune dosi acquistate. Stando a ciò che comunicano gli investigatori, la vittima nell'ultimo anno avrebbe acquistato cocaina e marijuana con una frequenza di almeno due o tre volte alla settimana per un valore complessivo di oltre 50 mila euro. La presunta vittima solitamente pagava la droga acquistata in un secondo momento. Quattro degli indagati attualmente si trovano in carcere mentre una persona è agli arresti domiciliari. Andiamo in Basilicata il giorno del riesame per i politici coinvolti nell'inchiesta sulla sanità a Lucana che lo scorso 7 ottobre portò all'iscrizione, ricordiamo, di 39 persone nel registro degli indagati. Nuovo appuntamento del percorso giudiziario sorto nell'ambito della maxi operazione della DDA di Potenza sulla sanità Lucana. L'inchiesta, che lo ricordiamo, lo scorso 7 ottobre portò all'iscrizione nel registro degli indagati di 39 persone tra politici regionali e amministratori locali. Misure cautelari attenuate per parte delle persone sottoposte, ovvero il consigliere regionale dimissionario di Forza Italia, Francesco Piro, unico finito in carcere ma passato ai domiciliari, l'ex DG del San Carlo, Giuseppe Spera, al quale è stato revocato l'obbligo originario di dimora ma nei cui confronti resta in vigore l'interdizione dall'esercizio di funzioni pubbliche per 12 mesi, il dimissionario assessore all'agricoltura, Franco Cupparo, passato dai domiciliari al divieto di dimora a Potenza, così come per il consigliere di Fratelli d'Italia, Rocco Leone. Unica ancora sottoposta alla misura cautelare originaria è la sindaca di Lago Negro, Maria Di Lascio, che dopo la sospensione dell'incarico avvenuta per effetto di un provvedimento del prefetto di Potenza, aveva chiesto l'attenuazione e la revoca della misura, non accettata dal GIP Antonello Amodeo. Sarà proprio Di Lascio dunque l'indagata maggiormente interessata all'esito del ricorso al Tribunale delle Libertà, come annunciato dal suo legale Sergio Lapenna, rinuncerà invece a questa fase procedurale Francesco Piro, che opterà per il rinnovo dell'istanza di revoca della misura davanti al GIP. Non solo indagati in udienza, ma anche inquirenti. Infatti il PM titolare del fascicolo, Vincenzo Montemurro, ha proposto appello alla revoca delle misure. Per la procura, infatti, la richiesta sarà della custodia cautelare in carcere per Cupparo, Leone e Di Lascio, nonché dei domiciliari per Spera. Una vicenda giudiziaria che si preannuncia ancora lunga, la cui evoluzione sta producendo un totale impasse in regione Basilicata, con il governatore Vito Bardi, anche lui iscritto nel registro degli indagati, alle prese con numeri che non tornano in maggioranza e con la surroga dei consiglieri di missionari ancora in stand-by. 13 persone, ritorniamo in Puglia, sono state indagate per la morte in carcere del trentenne di Osama Paolo Arfaki. La questione arriva anche in Parlamento, maggiori dettagli nel testo del servizio. Si indaga sulla morte di Osama Paolo Arfaki, trentenne di origini marocchine, deceduto il 18 ottobre scorso nel carcere di Foggia, dove era detenuto per una rapina da cinque giorni. L'uomo è stato trovato senza vita all'interno della sua cella. 13 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale e omicidio colposo nell'esercizio della professione sanitaria. Da quello che si apprende tra gli indagati ci sarebbe anche un detenuto. Secondo i primi esami, il trentenne sarebbe morto a causa di un arresto cardiocircolatorio, un risultato che non è mai stato accettato dai parenti di Arfaki, che non credono al decesso per cause naturali. Un amico del trentenne, anche lui in stato di detenzione, avrebbe raccontato al fratello della presunta vittima di averlo visto in carcere poco prima di essere rilasciato, particolarmente sofferente, ipotizzando che potesse essere stato picchiato. Chiedo giustizia e verità, aveva scritto su Facebook il fratello di Osama Paolo, poco dopo aver appreso la notizia. Qualsiasi persona entra in carcere e ha il diritto di vivere e il dovere di scontare una pena, si legge sullo stesso post nel quale viene anche denunciato che la famiglia non ha ricevuto alcun tipo di avviso dalla struttura. La questione, che almeno in questa prima fase riporta alla mente la vicenda di Stefano Cucchi, è arrivata anche in Parlamento. La senatrice Ilaria Cucchi ha presentato un'interrogazione urgente ai ministri dell'interno e della difesa. Si è fatta subito chiarezza sulle cause che hanno portato alla morte del signor Osama Paolo Arfachi, ha dichiarato la senatrice. In particolare è necessario sapere perché ancora oggi venga impedito ai familiari di vedere il corpo del proprio caro. Si attende per le prossime ore la nomina dei consulenti medico-legali per eseguire l'autopsia e l'esame tossicologico sul corpo di Arfachi. Ieri un incontro tra i sindaci lucani e il gabinetto della presidenza della giunta regionale lucana sul tema bonus gas. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti. Oggi pomeriggio daremo sicuramente notizia sul giorno in cui si può effettivamente caricare le domande. Poi naturalmente si potrà fare con tutto il tempo. Noi abbiamo fatto questo sistema, si capisce, anche informatico per dare la possibilità che già nelle prossime bollette i lucani che hanno fatto domande e ne hanno diritto possono avere il metano gratuito, almeno la parte della molecola, a posto che pagheranno gli onori di rete e eventuali imposte. Così l'assessore all'ambiente della regione basilicata Cosimo Lattronico sulla questione bonus gas e lucani, in particolare sul sito Apibas che con ritardo rispetto agli annunci si sta strutturando per accogliere le istanze dei lucani. Ieri un incontro in regione tra i sindaci e il capo di gabinetto della presidenza della giunta regionale dove sono stati ribaditi anche altri requisiti che i cittadini devono avere per usufruire dello sconto, essere residenti in basilicata, essere intestatari dell'utenza del gas ad uso domestico, essere proprietari dell'immobile dove sia residenti e intestatari, ma anche chi ha in accomodato d'uso oppure in affitto può presentare la domanda. In entrambi i casi si deve trattare di prima abitazione. Per le utenze intestate ai defunti occorre chiedere la voltura possibile anche online. Non c'è scadenza per la presentazione dell'istanza. Sempre nel sito ci saranno delle cosiddette FAQ, cioè tutte le domande che abbiamo raccolto in queste settimane da parte dei cittadini, per cui ci sono domande e risposte. E da ultimo il principio di fondo è che i lucani per l'uso domestico del gas avranno diritto a questa gratuità. Rimaniamo nella Basilicata dove a Miglionico è stato inaugurato un nuovo asilo nido. 20 bambini di età compresa tra i 0 e i 6 anni potranno da oggi a Miglionico passare le loro ore all'interno di un asilo nido nuovo di Zecca ospitato nel centro polifunzionale comunale. Un segnale di forza del territorio contro la tendenza tipica allo spopolamento delle aree interne. E' chiaro che questo è un servizio aggiuntivo alla comunità e quindi diciamo che è un sinonimo di resilienza, nel senso che noi ci teniamo che la nostra gente non vada via e non vada in altre residenze magari perché qui non abbiamo servizi. Quello che abbiamo fatto oggi è puntare sul nuovo sistema educativo e puntare sulle nuove generazioni, offrire un nuovo servizio alla comunità di Miglionico, ai genitori, alle mamme e ai papà che serve soprattutto per creare una comunità unita. Non è a caso l'amministrazione comunale ha voluto che il nido nascesse all'interno di questo grande centro polivalente dove all'interno c'è una sala di registrazione, una palestra, un teatro, il servizio per i minori in difficoltà, il servizio handicap. Quindi è il centro aggregante della comunità che nel tempo deve provare a diventare il centro culturale della provincia di Matera. E' questo il nostro cruccio e soprattutto è lo strumento con cui si può combattere lo spopolamento. Quanti più servizi ne offriamo ai nostri cittadini, tanto più loro si sentiranno meno isolati. L'Asilunido sarà gestito dalla cooperativa El Pasol. Questo progetto nasce sulla scia di un progetto più ampio che fu finanziato da Fondazione ConiSud ma che oggi continua ad avere i suoi effetti positivi. L'auspicio è che anche gli altri comuni della nostra regione, i piccoli comuni, possano utilizzare con intelligenza, così come sta facendo il comune di Miglionico, quelle risorse economiche che seppur che possono essere molto utili per attivare i servizi. Al Via Potenza gli incontri organizzati dal prefetto del capoluogo Michele Campanaro per approfondire i temi legati alla sicurezza in occasione di eventi. Iniziato rigorosamente in ordine alfabetico il primo di una serie di incontri che il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha indetto per discutere con i sindaci dei 100 comuni della provincia di Potenza con l'obiettivo di approfondire il tema relativo ai modelli organizzativi e procedurali da mettere in atto per garantire alti livelli di sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche. Assieme al prefetto erano anche presenti il questore di Potenza Antonino Romeo e gli altri vertici militari della provincia. Il primo incontro, così come i prossimi, si è svolto nella sala consigliare dell'amministrazione provinciale e ha visto partecipare i primi 25 sindaci da quello di Abriola fino al primo cittadino di Castronuovo di Sant'Andrea. Assolutamente, in linea con un percorso che abbiamo già avviato sui temi della sicurezza in generale, della sicurezza urbana. E oggi parliamo anche di quelle altre misure che occorre mettere in campo in occasione di manifestazioni pubbliche. Sappiamo che veniamo da due anni di pandemia in cui c'è stata anche una forte limitazione, un forte contenimento e adesso con le riaperture si torna anche in piazza, si torna a celebrare occasioni particolari e significative e quindi occorre riprendere un percorso che è stato sospeso per garantire che in momenti che sono rilevanti e significativi anche per le nostre comunità locali, sul piano delle tradizioni, sul piano dello sviluppo economico, ci si ricordi tutti quanti che è necessario comunque garantire quelle misure, quelle attenzioni che sono importanti per la salvaguardia delle incolumità dei partecipanti. Già programmate le date per le prossime sessioni che si terranno giovedì 27 ottobre, giovedì 3 novembre e martedì 8 novembre. Proseguono la materia agli appuntamenti del Festival Duni. Musiche di Bach, Mozart e altri compositori del 700 musicale europeo al Festival Duni grazie alle note del tastierista olandese Ton Koopman in duo con Tini Matoff, protagonista del clavicembalo, tra i brani la sonata in re maggiore di Mozart, la bergamasca in sol maggiore di Girolamo Frescobaldi, due composizioni dello spagnolo Antonio Soler. Facciamo un reputato barocco, comunque 700, per maggior parte è Johann Sostian Bach, Antonio Soler, spagnolo, e anche nel 600 c'è il bergamesco di Frascobaldi, Louis Couperin, Pavane e sì, questo è tutto. c'è un po' una selezione delle musiche del tempo barocco del 6-7 e su due clavicembali, è un bellissimo palazzo come qui. è la prima foto, ma non è la prima foto per Bari, perché sono già stato tre, quattro volte a Bari e Dingo Fabri, mio grande amico, mi ha parlato di questa città e ha detto, ah, questo è meraviglioso, veramente meraviglioso del mondo. Ha ragione, abbiamo fatto molti passi qui e oggi, bellissime chiese, piccole ma belle. Ciò, faremo, voglio tornare. Una notizia di sport per chiudere, Giuseppe Raffaele è il ufficialmente nuovo allenatore del Potenza Calcio, il tecnico siciliano già sulla panchina del Potenza dal 2018 al 2020 sostituisce Sebastiano Siviglia, esonerato nella giornata di lunedì. Raffaele avrà un contratto fino al prossimo 30 giugno con opzione per il rinnovo, alle 15 il suo primo allenamento al Viviani, alle 18 presentato ai giornalisti. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi.